Onorevole, ci sono tanti temi che interessano la professione medica. Partiamo da uno, quello della formazione. Diciamo la formazione è fondamentale per il medico e per l'operatore sanitario, soprattutto in un momento in cui la tecnologia corre velocissima. Però tuttavia l'obbligo di formazione non tutti i professionisti riescono ad emperlo. Cosa si può fare anche a livello europeo? È importante anche per i pazienti e quindi avere medici che in qualche modo si attrezzano rispetto alla loro formazione, a quello che accade, questo è molto importante per loro e per i pazienti. Dobbiamo incentivare, abbiamo una dispersione da parte di tanti medici, cerchiamo degli strumenti per incentivarla, la possibilità di avere dei punteggi, la possibilità di avere dei punteggi per partecipare a concorsi. Ci sono tanti modi per dare dei premi a chi in realtà si attrezza meglio per svolgere la propria professione e questo naturalmente dobbiamo incentivarlo. Pensa che nel prossimo bilancio europeo ci possa essere qualcosa a livello di formazione? Beh, su questo secondo me potremmo trovare, diciamo, dei canali nuovi. Noi abbiamo adesso un... dobbiamo farlo presto, cioè dobbiamo riuscire con il nuovo Parlamento a mettere sul tavolo, diciamo, alcune priorità che possono tirar fuori delle nuove linee di bilancio e questo della formazione in particolare nel settore medico è molto sentita e quindi ce la potremo fare. Altro tema è quello della generazione dei diritti negati. I medici ex specializzanti dal 1978 al 2006 che non hanno ricevuto la giusta rimunerazione. Lo Stato italiano ha già sborsato centinaia di milioni di euro in rimborsi. Anche su questo punto di vista cosa si può fare a livello europeo? Beh, si può. In questo caso, diciamo, stiamo parlando di una montagna di soldi e di un disinteresse in realtà generale. Invece il problema è molto serio, molto sentito. Noi avremo bisogno in qualche modo di aumentare le possibilità di trovare mediazioni e quindi di andare in mediazione senza ingolfare i tribunali, senza mettere in pratica dei meccanismi che durano anni e che non trovano nessuna soluzione o che trovano magari delle soluzioni addirittura sbagliate. Questo è un diritto che deve essere riconosciuto. Il tema della mediazione, io credo che sia, della mediazione giuridica, credo che sia l'unico che possa consentire giustizia. E a proposito di questo, c'è anche un altro tema legato che è quello dei contenziosi perché i medici si sentono un po' sotto attacco in questo periodo, i medici e i operatori sanitari, perché ci sono centinaia di migliaia di causa. Il gruppo Consulcesi ne ha valutate 300.000 addirittura giacenti nei nostri tribunali e diciamo che sta diventando difficile svolgere la professione. Si potrebbe magari varare una task force, un gruppo di lavoro che possa evitare che ricorsi sia spesso inutili? Anche qui la mediazione giuridica, il tema della mediazione. Su questo però mi permetto di dire che dovremo trovare delle regole anche europee e dovremo concentrarci, proprio per le esperienze che abbiamo, ad essere protagonisti di regole europee che in questo momento mancano e che potrebbero essere degli standard che valgono per non solo risolvere i nostri problemi ma degli standard che ci aiutano a guardare un po' al futuro. Dobbiamo essere protagonisti in Europa e l'esperienza può essere utile anche per gli altri. Lavorare sulle buone pratiche e farle conoscere agli altri ma nello stesso tempo attirarle anche da noi. Infine la tecnologia, la blockchain che è una tecnologia diciamo sugli scudi in questo periodo, la famosa catena di blocchi e l'Europa se ne sta interessando però ancora le legislazioni dei vari stati vanno ognuno diciamo per conto suo. Anche se da questo punto di vista cosa può fare l'Unione Europea? Beh, il Parlamento Europeo è intervenuto su questo. Adesso la palla passa ai governi e abbiamo bisogno di opinioni pubbliche che spingono i governi a tirare fuori dal cassetti le decisioni del Parlamento Europeo e a svilupparli. In realtà abbiamo governi che un po' non sentono la pressione delle nostre imprese, delle reti d'impresa e anche dell'opinione pubblica. Credo che questo sia un tema diciamo molto europeo.